Il tema è quello della sicurezza, tante volte sollevato dai sindacati e al centro delle richieste degli operatori sanitari. Ma quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì all'ospedale di Lecco ha dell'incredibile se non fosse purtroppo tutto vero, come conferma la stessa direzione aziendale. Nonostante la chiave di chiamata, che è in dotazione esclusivamente al personale, approfittando del periodo di latenza di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore, particolarmente lungo per via del passaggio delle barelle, qualcuno è riuscito a intrufolarsi in sala operatoria. Un balordo con problemi di tossicodipendenza è purtroppo già noto chi lavora in ospedale. Prima le cure al pronto soccorso del Manzoni, poi nel cuore della notte è sgattaiolato nell'ascensore che lo ha portato direttamente al blocco operatorio. In una sala era in corso un prelievo d'organi, motivo per cui le porte non erano bloccate dal codice d'accesso. Nessuno si è accorto di nulla, lui si è accomodato in quella fianco e si è appisolato. Al risveglio ha pensato bene di fare tutti i suoi bisogni, insozzando la stanza sterile. Difficile immaginare il volto dei chirurghi quando al mattino sono entrati per il primo intervento della giornata. Tutte le operazioni previste sono state rinviate di alcune ore per consentire al personale specializzato di disinfettare il blocco operatorio e gli strumenti chirurgici. L'uomo, un 38enne, è stato denunciato per imbrattamento, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. A giugno aveva fatto discutere alla notizia che un pregiudicato sottoposto a sorvoglianza speciale avesse letto come proprio domicilio proprio il pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. Siamo mortificati per l'accaduto. Nel pomeriggio si è tenuto un incontro per decidere quali misure adottare perché un simile episodio non si verifichi più le parole dei vertici aziendali.